Raduno, raduno, maratonetti, mezzofondisti, siamo qui a Grosseto però alla fine io quello che ho visto fare più fatica di tutti è Stefano Rosa, Accidenti e Giambrone che è venuto qui, stava facendo un allenamento tranquillo, hai fatto una roba micidiale, come stai Stefano? Sto abbastanza bene, non mi lamento, poi a Grosseto allenarmi per me è abitudine perché io vivo a Grosseto e quindi dove è meglio di Grosseto? Tu giochi in casa, ragionavo prima con Giovanna Epis che anche per te come per lei l'anno scorso in questi tempi riattiro di fare una gran bella cosa a Siviglia e invece quest'anno la maratona è un po' più avanti? Quest'anno speriamo di fare sempre una bella cosa un po' più avanti, io correrò la maratona ad aprile quindi mi sto preparando, farò questo raduno qui a Grosseto alla fine di questo raduno partirò per 20 giorni in Kenya dove farò un po' di altura e poi mi rimarranno 5 settimane per correre una buona maratona E qui ti voglio perché il già citato Giambrone che si prende cura della tua parte tecnica addirittura pensa che tu alla Roma Ostia possa andare molto molto forte, non diciamo quanto però lui mi ha detto un parametro che vuol dire, caspita, parecchio forte Sì, sto già bene ora, non mi lamento, spero di continuare a crescere con la condizione e dopo il periodo di altura farò questo test alla Roma Ostia dove spero di correre vicinissimo al mio personale se non migliorarlo Oggi abbiamo parlato con Baldini, abbiamo parlato con altri tuoi compagni di squadra in nazionale viene fuori una cosa che secondo me viene dalla tua parte, si sta cominciando a capire che un maratoneta ha bisogno anche di velocità Sì, io credo che ultimamente per un po' di problemi fisici l'avevo persa Infatti sono molto contento perché sto ritrovando i ritmi veloci che sono per me, per le mie caratteristiche, la cosa fondamentale per poi correre bene anche la maratona Sei già dove farai il maratona in aprile? Sì, ma a Pescara Manzia non lo voglio dire, quindi ad aprile in Italia, quindi non è molto difficile, però non voglio dire dove Ci riproveremo per il momento in bocca al lupo Crepi e grazie a voi che siete sempre presenti e fa molto piacere avervi qui con noi, grazie